Capitolo venticinquesimo Come San Francesco sanò uno lebroso l'anima e il corpo. Il vero discepolo di Gesù Cristo San Francesco, vivendo in questa miserabile vita, con tutto suo sforzo si ingegnava a seguitare Cristo, perfetto Maestro. Onde avveniva spesse volte, per operazione divina, che a cui sanava il corpo e zian Dio sanava l'anima a onora medesima, come si legge di Gesù Cristo. Ed però che lui non solamente volentieri serviva a lebrosi, ma oltre ad questo aveva ordinato che i frati di suo ordine, andando e stando per lo mondo, servissono a lebrosi per amor di Cristo, qual per noi volle essere reputato lebroso. Una volta vicino a dove dimorava San Francesco, addivenne che i frati servivano ad un ospedale, ad uno lebroso che con altri infermi vi stava molto impaziente, incomportabile et protervo, che a domini persona pareva per certo invasato dal dimonio. Villaniava di parole i frati, Ed scorse a molto peggio, che vitoperosamente cominciò a bestemmiare Jesu Cristo et la Santissima Sua Madre, Virgine Maria. Unde non era cui servire lo volesse o potesse. Che le villanie et i niurie proprie studiavano i frati pazientemente sopportare per accrescimento di loro merito. Ma quelle che diceva a Jesu Cristo et alla pietosissima Madre Sua, non potendo sostenerle, aveano deliberato in tutto abbandonarlo, volendo però prima consultarne con San Francesco, che, come detto è, stava loro vicino. Come li fu detto, subito venne a questo perverso lebroso. Come fu giunto, li disse, «I Dio ti dia pace, o fratel mio!» Rimbrottando disse, «Che pace posso avere io da Dio che mi ha tolto pace e tomni bene e tamifatto puzzolente e te tutto fetido!» San Francesco disse, «Abbi pazienza, che le infirmità dei corpi ci sono da Dio permesse in questo mondo per salute dell'anime, però che, essendo portate in pace, di grandissimo merito sono!» risponde lo lebroso, «Come si può portare in pace la pena continua che notte e te di maffligge? Et non solamente mi basta la infirmità mia, ma peggio mi sono i frati, quali mi desti che mi servissino, et non mi vogliono servire come devono!» Conoscendo San Francesco per rivelazione divina che questo lebroso era posseduto dal maligno spirito, si puose in orazione divotamente pregando i Dio per lui. Fatta orazione, tornò a lui e te disse, «Fratello, io ti voglio servire da che non ti contenti degli altri!» «Facemi», disse, «ma che mi potrai tu fare più che gli altri!» «Farotti, dice San Francesco, ciò che tu vorrai», dice lo lebroso, «voglio che tu mi lavi tutto quanto, perché tanto forte puzzo che io medesimo non posso patirmi!» Allora San Francesco subito ordina scaldare l'acqua con molte odorifere erbe, et spogliato questo comincia subito ad lavarlo con sue mani et un altro frate metteva sull'acqua. Et per miracolo divino, ove San Francesco con sue mani toccava, si partiva la lebra et perfettamente rimaneva sanato. Et come sanava la carne, così cominciava ad sanare l'anima. Onde, vedendosi cominciato ad guarire, il lebroso cominciò ad avere gran compunzione et pentimento de peccati suoi et amarissimamente ad piangere. Sicché, mentre il corpo si mondava della lebra di fuori per lavamento, così l'anima si mondava dentro per contrizione et lacrime. essendo compiutamente sanato ad l'anima et al corpo, molto umilmente si rendeva in colpa et piangendo ad alta voce diceva guai ad me che son degno dell'inferno per le villanie et iniurie fatte a questi santi frati et per impazienzia et bestemie che io haute contra Dio et sua santissima madre. Onde per quindici giorni perseverò in amaro pianto de peccati suoi et domandare misericordia a Dio molto divotamente confessandosi. Veduto San Francesco così espresso miracolo che aveva il Dio per sue mani operato ringraziato molto il Dio si partì di quindi andando in paese assai più lungi che per umilità voleva fuggire omni mondana gloria cercando in tutte le sue operazioni gloria di Dio non pompa di mondo. Come piacque a Dio di poi detto lebroso sanato d'anima et di corpo passati quindici di di sua penitenzia infirmò d'altra infirmità et armato de sacramenti ecclesiastici santamente si morì. L'anima del quale andando in paradiso apparve in aria a San Francesco che stava in orazione in una selva dicendo riconoscimi tu qual sei tu disse San Francesco disse sono l'anima dello lebroso quale Jesucristo benedetto sanò per meriti tuoi ora ne vo alla gloria eterna sicché infinite grazie rendo a Dio et ad te benedetta sia l'anima e il corpo tuo benedette le parole et operazioni tue però che molte anime salveranno al mondo sappi che nullo di è nel quale gli angeli santi e gli spiriti beati non ringrazino i Dio dei santi frutti che tu e il tuo sacro ordine fate in diverse parti del mondo però confortati e te ringrazia il Dio e te rimani con la benedizione sua finite queste parole Nando alla infinita gloria e te rimase San Francesco molto consolato capitolo ventiseiesimo come San Francesco convertì tre ladroni andando una volta a San Francesco per lo distretto del borgo a San Sepolcro et passando pel castello di Monte Casale venne a lui uno jovane molto delicato et nobile dicendo padre volentieri vorrei essere dei vostri frati rispuose San Francesco figliuolo tu sei nobile iovane et delicato forse non potresti sostenere la povertà et nostre asprezze disse padre non siete voi uomini com'io adunque come le sostenete voi così le potrò sostenere io per la grazia di Dio piacque molto a San Francesco questa risposta sicché benedicendolo subito lo ricevette all'ordine e puose l'inome frate Angelo quale si graziosamente si portò che in poco tempo lo fece guardiano in detto luogo di Monte Casale usavano in quel tempo nel paese tre nominati ladroni et vi facevano molti mali venuti questi uno di al predetto luogo pregarono frate Angelo guardiano che desse loro da mangiare per amor di Dio rispuose loro in questo modo et ripreseli molto aspramente dicendo voi ladroni crudeli et micidiali non tanto non vi vergognate rubare le fatiche altrui ma ancora presuntuosi et sfacciati volete divorare le povere limosine che sondate a servi di Dio et non siete pur degni che la terra vi sostenga perché non avete nessuna riverenza a Dio creator vostro né agli uomini del mondo andate dunque pe fatti vostri et non apparite più qui costoro con grande isdegno si partirono molto turbati poco ostante tornò San Francesco con una tasca di pane et uno vasello di vino a uto di limosine per amor di Dio al quale recita il guardiano come aveva cacciati i ladroni San Francesco lo riprese fortemente e te disseli che aveva fatto male et crudelmente s'era portato però che peccatori meglio si riducono con dolcezza che con crudeli riprensioni onde il nostro maestro Jesucristo il cui evangelio avemo ad osservare dice non è bisogno a sani il medico ma agli infermi et che non era venuto ad chiamare gli justi ma i peccatori a penitenzia onde mangiava spesso con loro con ciò sia cosa dunque che tu abbia fatto contra la carità et contra il santo evangelio di Cristo ti comando per santa obbedienzia che subito incontanente pigli questa tasca del pane et questo vasello di vino che io ho portato et sollicitamente va loro dietro per monti et piani tanto che li trovi et loro presenta questo pane et vino da parte mia poi umilmente ti inginocchia innanzi loro et dirai tua colpa della gran crudeltà che loro facesti poi li priega da parte mia che non faccino più male ma che temano il Dio et non offendano i prossimi se questo faranno prometto loro provvederli ne bisogni loro et continuamente darò loro mangiare et bere quando fatto avrai umilmente questo te ne torna qua mentre che il guardiano andò a fare il detto comandamento San Francesco si puose in orazioni pregando il Dio che ammorbidasse il cuore di quei ladroni che si convertissino ad penitenzia partito l'ubbidiente guardiano tanto andò che li trovò et presentò pane et vino facendo l'ambasciata sua come piacque a Dio mangiando i ladroni la limosina di San Francesco cominciarono a dire fra loro guai et miseri noi i sventurati come dure et crudeli pene ci aspettano nello inferno che non solamente andiamo rubando i prossimi nostri offendendo et battendo ma et andio uccidendo niente meno di tanti et così scelerati mali et iniuste cose che noi facciamo non avemo rimordimento di coscienzia né timore di Dio et questo santo frate è venuto a noi a rendersi in colpa per certe parole che giustamente per nostra malizia ci disse et così umilmente ci ha domandato perdonanza et oltre a questo ci ha portato pane et vino et si libera al promessa dal padre frate francesco veramente questi sono frati di Dio et meritano paradiso ma noi siamo figliuoli di dannazione etterna et meritiamo le pene eterne omni di crescendo la dannazione nostra non sappiendo se dei peccati fino a qui fatti mai potremo misericordia da Dio trovare queste parole et simili dicendo uno di loro dicevano gli altri due per certo tu di vero ma ecco che dovemo fare andiamo disse al venerabile padre fra francesco dandoci speranza di trovare misericordia da Dio dei peccati nostri faremo ciò che ci comanda et così possiamo liberare l'anime nostre dalle pene dello inferno questo consiglio ad gli altri piacque assai et così tutti d'accordo andarono a san francesco dicendo padre noi per molti scelerati peccati fatti non crediamo poter trovare misericordia da Dio ma se voi avete speranza alcuna che i Dio pur ci ricevesse ad misericordia ecco apparecchiati siamo a fare tutto quello che comanderai et a far penitenzia con teco allora san francesco con grande carità et benignità riceutoli li confortò con molti esempi rendendoli certi che i Dio aria misericordia di loro et di certo promise impetrarla loro da Dio mostrando loro come la misericordia di Dio è infinita et se avessimo infiniti peccati la misericordia sua ancora è molto maggiore et secondo il Vangelio et ancora il detto dell'Apostolo Cristo benedetto in questo mondo venne per ricomperare i peccatori per le quali parole et simili a maestramenti santi i detti ladroni rinunziarono in tutto al mondo et all'opere sue et San Francesco benignamente li ricevette all'ordine et cominciarono a fare gran penitenzia due di loro vissono poco dopo la loro conversione et andarono ad vita eterna et il terzo rimanendo et ripensando i peccati suoi si die ad tal penitenzia che per quindici anni eccetto le quaresime che comuni sono le quali faceva con gli altri frati tutto l'altro tempo diunava in pane ed acqua tre di la settimana et sempre andava scalzo et con una sola tonica indosso nemmai dopo matutino dormiva san francesco morì in questo tempo avendo continuata costui cotal penitenzia per molti anni una notte vi venne tanta tentazione di sonno dopo matutino che per alcuno modo resistere poteva al sonno né orare o vegliare come soleva finalmente non possendo più se ne andò sul letto per dormire un poco onde posato il capo furratto in spirito et su un altissimo monte fu menato al quale era una profondissima ripa et a omnibanda pietre molto grandi scheggiose spezzate et scogli disuguagliati et schegge che uscivano fuori dei sassi quale ripa da riguardare era molto paurosa l'angelo che guidava questo frate lo sospinse et lo gittò giù per questa ripa quale trabalzando et percotendo di scoglio in scoglio et di pietra in pietra al fine venne al fondo di questa ripa tutto dimembrato et spezzato et così li pareva essere al tutto giacendo in terra così malconcio dice colui che il guidava leva su che ti conviene ancora gran viaggio fare risponde il frate tu mi pari indiscreto uomo che mi vedi per morire delle percosse della caduta che mi ha così spezzato et tutto rotto et ancor mi di leva su accostatosi l'angelo a lui et toccandolo tutti li membri furono sanati poi li mostra una gran pianura piana di pietre molte puntate et taglienti ancovera molte spine et triboli et te dice tutto questo piano passarti conviene a nudi piedi fino che giunga al fine dove stava una fornace di fuoco ardente nella quale ti conviene entrare avendo passata il frate tutta quella pianura con molta angoscia et pena l'angelo dice entra in questa fornace che al tutto così ti conviene fare dice questo oimè quanto mi selcro del compagno che mi vedi così vicino alla morte per questa angosciosa pianura et ora per riposo mi di ch'io entri nella fornace ardente guardando intorno ad questa fornace vide molte dimonia con forche di ferro in mano con le quali poiché stava troppo ad entrarvi subito vel sospinsono dentro guardando dentro vide uno che al mondo fu suo compare che ardeva tutto al quale il frate oimè compare sventurato come qua venisti risponde ose un poco va più innanzi e te troverai mia moglie comare tua che di nostra dannazione ti dirà la cagione così andando più innanzi ebbe trovata la sventurata detta comarsua rinchiusa in una misura di grano affocata che crudelmente tutta divorava di che tutto pieno di maraviglia e di dolore la dimanda oi sventurata et misera comar mia come et perché venisti in questo ciclo del tormento rispose perché al tempo della gran fame la quale san francesco predisse dinanzi al marito mio io et lui falsavamo il grano et biada che noi vendevamo nella misura però in questa misura così stretta sono iudicata così stretta ad ardere poi di queste parole l'angelo sospinse il frate fuori della fornace e te disse apparecchiati a fare un terribile e taspro viaggio che ti conviene fornire rammaricandosi il frate diceva o durissimo conducitore che alcuna compassione non mai tu mi vedi quasi tutto arso in questa fornace et ancora in pericoloso et lungo viaggio menar mi vuoi l'angelo allora lo toccò et fecelo sano et forte poi lo condusse a un ponte che senza grandissimo pericolo non si poteva passare perché molto era sottile et stretto et strucciolente assai senza sponde da lato et di sotto correva un terribil fiume pieno di dragoni serpenti et scorpioni et menava grandissimo puzzo disse l'angelo passa questo ponte che al tutto passarti conviene risponde lo frate come lo posso passare ch'io non caggia nel fiume l'angelo dice vieni dopo me et poni il piede ovvio pongo il mio così passerai sicuro passa lo frate dietro all'angelo come insegnato li aveva tanto che fu ad mezzo il ponte allora l'angelo volò via et te lasciò lo solo et lui se ne andò su un altissimo monte assai di lungi dal ponte dove lo videro frate molto bene andare così rimaso senza guida et solo riguardando nel fiume vedeva quelli brutti vermi star col capo fuor dell'acqua con le bocche aperte apparecchiate a divorarlo se cadesse onde stava in tanto timore che gli pareva morire et non sapeva che fare né che dire né possendo andare innanzi né tornare indietro vedendosi in tal tribulazione senza soccorso altro che di dio si chinò et abbracciò il ponte et con molte lacrime si raccomandava con tutto il cuore a dio che per la sua misericordia soccorrere il dovesse compiuta sua orazione li parve cominciare a mettere l'alie di che con grande allegrezza aspettava che crescessono per poter volare di là dal ponte ov'era volato l'angelo ma dopo alcuno tempo per la gran voglia di passare il ponte si mise ad volare ma perché le penne non erano ancora tanto grandi cadde sul ponte et cascaro lì le penne onde di nuovo abbraccia il ponte et come prima raccomandandosi a dio fatta l'orazione di nuovo li parve di metter l'alie et non aspettò che crescessono ma come prima avvolarsi mise innanzi tempo et caddongli le penne come prima et così rimase in sul ponte onde veduto che per fretta di volare innanzi al tempo li cadevano omnivolta le penne cominciò fra sé medesimo a dire per certo che se la terza volta metto l'alie aspetterò tanto che senza cadere potrò volare stando in questo pensiero la terza volta si vede metter l'alie onde aspettò gran tempo tanto che furono grandi et parevali per lo primo secondo et terzo metter l'alie avere indugiato ed aspettato ben da cento anni o più alla fine questa terza volta si levò con tutto suo potere et forza ad volo et tanto volò che andò ad luogo ov'era volato l'angelo et picchiò la porta ov'era entrato l'angelo al quale il portiere dice chi sei tu e tonde sei venuto qui risponde io sono un frate minore dice il portiere aspetta che ci voglio menare san francesco ad vedere se ti conosce andando per san francesco cominciò costui ad riguardare le mura maravigliose di questo palazzo rilucenti di tanta chiarità che chiaramente vedeva i cori dei santi angeli et ciò che dentro si faceva stando così estupefatto a riguardare ecco venire san francesco frate bernardo et frate egidio et dopo loro tanta moltitudine di santi et di sante che avevano seguitato la vita sua che quasi erano innumerabili giunto san francesco disse al portinaro fallo entrare peroccheglie dei frati miei come fu dentro sentì tanta consolazione e dolcezza che dimenticò ominitribulazione che sostenuta aveva come l'avesse mai auta san francesco menatolo allora per dentro molte maravigliose cose li mostrò poi disse ad te conviene di tornare al mondo et starvi sette di nei quali diligentemente t'apparecchierai con omini divozione passati poi sette di verrò per te et porterotti in questo luogo di beati era ammantato san francesco di maraviglioso mantello adorno di bellissime stelle ette le dilette sacratissime sue stimate erano sì come cinque radiantissimi raggi di sole di tanto splendore che il palazzo illuminavano tutto con i razzi loro frate bernardo avea una corona di bellissime stelle frate egidio era adornato di maravigliosa luce et molti altri santi frati conobbe fra loro che nel mondo mai veduti aveva adunque licenziato da san francesco si ritornò al mondo benché malvolentieri destandosi il frate risentito et ritornato in sé senti sonare i frati a prima et così conobbe non essere stato in quella visione più che da cantato mattutino ad ora di prima benché a lui paresse essere stato centocinquanta anni recitando poi al guardiano la visione per ordine al settimo di cominciò ad avere la febbre poi l'ottavo di venne san francesco per lui come li promise con grandissima moltitudine d'angeli et gloriosi santi et l'anima sua ne portò al reame di vita eterna all'aude et gloria dell'altissimo iddio et del poverello umile santo francesco l'anima 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 l'anima